Qui il sindaco ha disposto per alcune specifiche categorie di cittadini i test diagnostici rapidi. Oggi siamo iniziati, l'ho fatto pure io il test, fortunatamente è risultato negativo. Sono in vendita in farmacia? Sì, sono in vendita in farmacia, qui c'è pure la circolare. E sono certificati? Sono certificati, c'è, come si può vedere. Noi abbiamo messo un medico e un'infermiera a fare questi test. Solo a determinate categorie di persone più esposte. Non è un caso se il nostro è l'unico comune con più di 10.000 abitanti, con zero casi, zero contagi in Campania. Nonostante siamo nell'area metropolitana di Napoli e circondati da comuni con tantissimi casi. Grazie al comportamento virtuoso di un'amministrazione e dell'intera comunità.